Sì, non dimentichiamo mai che la vera matrice storica e filosofica del marxismo occidentale fu l'eghelismo e in Hegel non vi è mai l'idea illuministica invece della furia del dileguare, l'idea che in qualche modo si debba fare tabula rasa del passato e delle tradizioni per l'incipit vita nova dell'epoca delle magnifiche sorti e progressive. Dal punto di vista hegeliano metabolizzato poi da Gramsci come anche da Costanzo Preve la storia evolve superando e conservando per Aufhebung che è un togliere alla latina, un tollere cioè un superare conservando, è un fiume in piena la storia in cui il passato non è mai perduto ma è sempre conservato anche quando è superato. Ecco perché la furia del dileguare delle odierne sinistre che sono di fatto forme di fondamentalismo illuministico che nulla hanno a che vedere con la grande tradizione hegelo-marxiana pensano che il progresso sia una sorta di cancellazione costante del passato. Emerge bene in questa squallida figura oggi in auge della cancel culture, l'idea di cancellare e rimuovere i simboli e le vestigia della nostra civiltà. La nostra civiltà non si cancella, si conserva prendendo dagli errori per non ripeterli, la si studia, nulla va perduto del passato. Ecco l'erramento dell'illuminismo per Hegel stava proprio in questa furia del dileguare che pretendeva di troncare con il passato, invece io mostro nel libro l'esigenza sulla scorta di grandi maestri come Costanzo Preve che è stato mio maestro personale, Gramsci e Pasolini che sono stati maestri solo ideali, di mantenere un legame con la tradizione, con la nostra storia, con la nostra provenienza. Gramsci insisteva molto nei quaderni del carcere sulla valenza del folclore anche, che è il senso comune, la filosofia delle masse nazionali popolari. Pasolini insisteva molto sulla valenza della tradizione, è solo nella tradizione il mio amore, dice Pasolini, nella storia da cui proveniamo e alla quale siamo legati. Costanzo Preve a sua volta insisteva esattamente sull'importanza della cultura e della provenienza, la comunità come rapporto anche sincronico ma poi anche diacronico, quindi come comunità di uomini che vivono nella propria comunità presente, sincronicamente, che vivono diacronicamente in rapporto con gli spiriti magni e con la civiltà da cui provengono. Ecco perché oggi abbiamo bisogno, ed è l'endiadi che propongo nel finale del mio libro, di Spartaco e di Telemaco. Spartaco è colui il quale lotta per spezzare le catene materiali, è il simbolo imperituro di una lotta che pur sapendosi nel caso di Spartaco destinata al fallimento non rinuncia a scendere in campo. Nella pellicola di Kubrick dedicata a Spartaco c'è una scena molto bella di Spartaco con il pirata che gli fornisce le barche per fuggire e attraversare l'Adriatico, il pirata dice ma perché intrapendete questa lotta se sapete già che perderete? Non importa se perderemo, è una testimonianza in nome dell'idea imperitura eterna di libertà e quindi di liberazione, la dialettica servo signore. Si può perdere lottando sul campo ma se non si combatte si è già perso, è l'insegnamento della dialettica servo signore. E poi naturalmente Telemaco che nel secondo poema omerico è l'emblema dell'amore per l'identità e per la figura del padre. Telemaco fin dai primi libri trascorre le sue giornate in riva al mare a Itaca ad aspettare il ritorno del padre salpato glorioso. Mentre nel palazzo di Odissio i proci praticano la lunga notte del godimento anomico, l'odierno capitalismo del godimento e della crescita illimitata degli averi, è un emblema perfetto quel passaggio odisseico, invece Telemaco aspetta il ritorno del padre. Il padre è il nomos, è la legge, il padre è il simbolo di un rapporto ordinato e quando torna Odissio ripristina il nomos della famiglia, della patria, di una comunità giusta e poi Odissio è il simbolo dell'identità. Un capitolo del libro è dedicato proprio a Odissio o dell'essere pienamente chi siamo. Odissio è il personaggio filosofico dell'identità, di un'identità che non si chiude all'altro, modalità narciso, che guarda solo in se stesso e che nemmeno si perde nell'apertura all'altro, modalità eco, non Umberto ma naturalmente il mito greco di eco. Odissio è l'identità che si apre al dialogo senza rinunziare a sé, è l'identità che attraversa popoli e culture del Mediterraneo per tornare gloriosa a Itaca, arricchita dal lungo viaggio ma senza aver perduto se stessa. Odissio è se stesso solo alla fine del lungo viaggio senza aver negato se stesso ma avendo portato a un più alto livello di consapevolezza la propria identità. È il viaggio dell'identità quello di Odissio, del ritorno a Itaca dopo aver conosciuto genti e popoli senza mai aver perduto la rotta e il senso fondamentale della famiglia, della propria civiltà, della patria e del nomos. Per questo il mio libro per inciso ha una dedica che forse ora sarà più chiara a chi ancora alla notte dei proci preferisce il difficile viaggio verso Itaca.